Direttore, questa variante Omicron adesso quanto preoccupa? Non preoccupa più di tanto, dobbiamo vedere quali sono i dati. Non è ancora presente sul nostro territorio, parlo del territorio abruzzese, delle regioni per le quali facciamo il sequenziamento. Eppure se oggi i ministri della Salute e del G7 si incontrano per parlarne, evidentemente un timore c'è. Il timore c'è, ma sono supposizioni. Dobbiamo vedere che cosa succederà dal punto di vista sperimentale e anche che cosa ci dicono i dati dal vivo. Una cosa è certa, l'unico cittadino italiano positivo sta bene in salute perché è vaccinato. Questo è un dato confortante. Per voi è un surplus di lavoro? No, stiamo continuando a sequenziare. Certo, abbiamo accelerato le operazioni di sequenziamento, stiamo sequenziando un po' di più, ma non ci preoccupa.